La conduttrice di Pomeriggio 5 ha iniziato le sue desiderate vacanze ed è in giro per l'Italia con gli amici. Barbara D'Urso ha vissuto però una disavventura, sono passate ormai settimane dall'ultima puntata della stagione di Pomeriggio 5, e finalmente per la sua padrona di casa è arrivato il tempo di godersi le agognate vacanze estive, in compagnia del suo gruppo di amici predi. Barbara D'Urso, come è noto, è molto social e spesso e volentieri pubblica online foto e storie che documentano la sua vita quotidiana e la mostrano in questo caso durante i suoi primi giorni di riposo. Eppure sembra che il periodo tanto desiderato non sia partito proprio con il piede giusto, visto quello che lei stessa ha dichiarato proprio in rete e che ha lasciato stupiti i milioni di utenti che ogni giorno la seguono, ma cosa è successo di tanto particolare alla conduttrice? Qualcosa che lì per lì l'ha anche un po' inquietata e a volte può capitare improvvisamente. Barbara D'Urso, inconveniente per lei. Ecco cosa è successo, alcune ore fa è apparso un nuovo video sul profilo ufficiale Instagram della presentatrice, e ha in parte anche preoccupato i suoi follower, più di 2 milioni sul social. Cosa è capitato a Carmelita? Uno dei brevi filmati la mostra al settimo cielo, mentre canta squarciagola un successo di Ronnie in compagnia di un bel gruppo. Peccato che, nel video successivo, appaia in macchina con tre di loro, e sembra abbiano perso la via del ritorno. E a furia di cantare ci siamo persi, scrive infatti la D'Urso, accompagnando la frase in sovrimpressione con quattro faccine che piangono da poco male, poiché le clip successive li vedono tornare alla meta e sorridenti seduti attorno a un grande tavolo sotto a un pergolato. Barbara ha partecipato a una festa in compagnia la sera prima, e la comitiva ne ha approfittato per fare un giro nei dintorni e incamminarsi per i campi brulli della campagna. Una disavventura che si è conclusa positivamente, per fortuna, e che non ha causato particolari disagi.